Siamo arrivati a questo livello qua, lato tetro e mi è uscito appena sono riuscito a prendere i 501 ci sono dovuto un bel po' per prenderne e adesso andiamo qua ci troviamo sul lato più tetro della luna non ho capito bene questo dovrebbe essere l'altro più difficile però c'è un peggio, pericolo mi viene già attenzione ma l'altro pericolo sceglie la ragione con questo è un peggio non 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 è un peggio facciamo un po' su un blocchino dov'è farcela qui? Aspetta! 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 No! Aspetta! Mannaggia! Allora, facciamo un po' alba! No! No! Adesso... No! Mannaggia! Eh, io! Eh! Ok, questo è un po' alba! Ok, questo è un po' alba! Non... Devo dargli... ...solo due caute! Ci darla... Almeno spero che... questo lo ho tolto! Con l'altro lo ho tolto! Se no che non me lo dovrebbe prendere! Vabbè! Aspetta, siamo ancora all'inizio! Ci sta! Allora... 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 Amont... Allora... Aspetta che si sposta. 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 oh oh no non 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 si il 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 delle in il Ah, aspetta qua, devo fare... Oh, sei Yoshi! Allora... Sì, posso mangiare? No... Ok... Vado... Vado... Vado! Vado... Vado... Torn Clara... Vado! Grazie! Oh! So, so... So, so... Oh! Yeah, go! Yeah! Rusty! Sì, 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 sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Speriamo che... Faccio un altro stupidaggio Grazie a tutti 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 Buongiorno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti